Il Brindisi prova a recuperare gran parte degli infortunati in vista del ritorno in campo, al momento programmato mercoledì 19 maggio, nel match di recupero allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi contro il Cerignola, per un intenso e impegnativo finale di stagione. Ha ripreso a lavorare in gruppo Davide Vaco, dopo un breve periodo di terapia per un affaticamento. È tornato in città anche Pietro Sicignano, il capitano biancazzurro, che sta svolgendo un lavoro differenziato in vista di un reinserimento definitivo con il resto della squadra. In fase di recupero anche il centrocampista Bottari, anche lui però ancora alle prese con un lavoro individuale, da valutare nei prossimi giorni la tempistica per un loro utilizzo. R'integrato anche Francesco Faccini, che sarà a disposizione del tecnico Cazzarò in queste ultime sei gare di campionato. Ovviamente da valutare i tempi di recupero invece dei calciatori colpiti dal Covid, per un finale di stagione come detto particolarmente intenso per i brindisini, che oltre alle quattro giornate di campionato regolarmente previste, dovranno scendere in campo per i recuperi contro il Cerignola ed il Sorrento, disputando sei gare in meno di un mese, che mettono in palio la permanenza del campionato di Serie D.